Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre 2020 ci sarà il più grande raduno di Ferrari provenienti da tutta Italia. Si prepara tutto al Da Vinci Village che ospiterà questo evento così bello e importante e ben 43 le vetture rosse che aderiranno al club Ferrari Passione Rossa. Su da l'issuto dei clienti Ferrari più importanti del mondo saranno le protagoniste del primo evento che il Da Vinci Village va a organizzare dal giorno della sua inaugurazione che si è verificato il 10 settembre scorso 2020 ma è un parco commerciale che ospiterà un numero così elevato di Ferrari del resto il Da Vinci può avere 90.000, può contare su 90.000 metri quadrati di superficie che lo rendono il parco più grande di tutta l'Italia con ampi quindi grandi spazi all'aperto, un evento di grande portaggia che porta in prestigio il Ferrari, il marchio Ferrari, il Ferrari Club in maniera distinta e meravigliosa. va bene? Questo è stupendo, questo è favoloso, va bene? Dunque tutti pronti, tutti diciamo così pronti ripeto a compiere grandi cose il Da Vinci Village va a ospitare questo evento così importante, ripeto 10 ottobre 2020, sabato 11 domenica, ottobre 2020 Ciao a te, Anonara, tu l'italiano